colleghi mi presento sono roberto gaudieri officina fx3 come vedete dalla targa sono san zello all'ambro in via primo maggio civico 16 che è in provincia di milano volevo presentarvi l'i carbon connect che è il macchinario che mi ha svoltato due anni fa la vita anche potrei dire anche la vita in officina grazie a questo macchinario che genera decarbonizzazione quindi genera idrogeno tramite elettrolisi vediamo bene nel funzionamento acqua distillata corrente elettrica e questo è la manutenzione e il consumo del macchinario assolutamente è molto molto economico non ha bisogno di grandi potenze e soprattutto zero manutenzione andiamo a vedere il funzionamento della i carbon connect abbiamo il nostro tablet dove abbiamo il collegamento con l'obd che registra i dati della macchina se ci sono errori o malfunzionamenti il cliente riesce a darci informazioni sulla percorrenza stradale autostradale o percorrenza extraurbana per generare un tipo di lavoro e di percentuale in tempo per poter fare una decarbonizzazione ad hoc quindi studiata in base alle caratteristiche del veicolo anche delle cilindrate e degli anni diesel benzina e anche gpl e anche ibrido fatto questo noi possiamo inserire il nostro tubicino dove viene attaccato al filtro dell'aria bypassando il db metro quindi l'elettronica della macchina e da lì possiamo cominciare la nostra decarbonizzazione ricordo che la macchinario i carbon connect non ha assolutamente nessuna manutenzione nessun consumo l'unico consumo elettrico sono circa i 100 200 watt del macchinario e l'acqua distillata che costa veramente poco per quanto riguarda alla fine del processo la macchina insieme al cliente andiamo a fare un test drive per poter poi subito a caldo le sensazioni del cliente quindi andiamo a far capire che quello che è stato fatto non è assolutamente aria fretta ma anzi è grandi benefici quindi dopo finito tutto il test drive di circa sette otto minuti il programma potrà generare poi finalmente la percentuale libera di intasamento percentuale prima percentuale dopo verrà poi generato un report in pdf tramite cartaceo oppure tramite email che verrà spedito poi direttamente al cliente è veramente molto facile ragazzi vi posso garantire che vi può svoltare la vita lavorativa presso la vostra officina e soprattutto avvicinare quei clienti che magari erano un po scettici e soprattutto magari non vi conoscevano perché lavorate sempre con le stesse identiche soluzioni oppure lavori in meccanica interessante ragazzi poter approfondire grazie ai commerciali di Flexful Italia fate un bel appuntamento per poter provare con mano spiegare chiedere le domande giuste per avere questo investimento futuro iCarbonConnect Flexful ragazzi grazie ancora di tutto questo che mi avete dato in questi anni ciao